È possibile fare richiesta per il voucher ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva dallo scorso 6 agosto. Si tratta del contributo dell'Agenzia Regionale Universiadi per lo sport della Campania, che dà modo ai ragazzi che vivono sul territorio di praticare sport gratuitamente per la stagione sportiva 2024-2025. Il voucher è dell'importo massimo di 400 euro per agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basso, a sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi sportivi. Tante le società erpine ad usufruirne dal calcio alla palla a canestro, dalla palla a volo al tiro con l'arco, come gli arcieri del Vecchio Castello e la Partenio Stars per citarne alcune. Il voucher previsto dalla regione Campania per praticare sport gratuitamente è rivolto ai minorenni di età compresa tra i 6 e 15 anni e in più bisogna essere cittadini italiani o dell'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno, Inoltre per accedere al contributo bisogna avere i seguenti requisiti economici Isee fino a 17.000 euro se un nucleo familiare ha fino a tre figli Isee fino a 28.000 euro se un nucleo familiare è composto da quattro o più figli Le domande potranno essere inoltrate fino e non oltre le 23 del 20 settembre 2024 Chi volesse accedere al voucher può inoltrare la richiesta sull'apposita piattaforma dell'Agenzia regionale universiadi per lo sport della Campania L'esito della domanda si potrà monitorare sull'app IO scaricabile sul proprio cellulare per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione Il lavoratore dopo aver convalidato i buoni così ricevuti con la propria firma Può riscuotere il corrispettivo netto presentandoli all'incasso presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale Esibendo un valido documento di riconoscimento